Wow! Vi trovate al cospetto dell'oracolo onnisciente. Cosa vi conduce fino a me, minuscoli mortali? Oh, perché non me lo dici tu? Sei tu l'oracolo. Insomma, fatemi fare un po' di scena. Mi annoio terribilmente a starmene qui seduto tutto il giorno. Siete venuti qui a chiedere il mio aiuto. È un oracolo da quattro soldi. Questo poteva indovinarlo chiunque. Questo poteva indovinarlo chiunque. Che ne dici di questo? Il broncio è tornato e ha gettato un incantesimo sul tuo regno. Capirai che scoperta. E se non basta, so anche quella cosa sulle tue mutande, Terry. Ah, e cosa c'è da sapere? Questo oracolo è un portento. Ha persino indovinato il mio nome. Chi è adesso l'oracolo da quattro soldi, eh? Caspita, ritiro tutto. È fenomenale. Non ci posso credere quanto sono stupido. Aspetta, non è quello che stavo per dire. Piantala. No, piantala tu. Signori, vi prego, calmatevi. Scusa, mia cara.